Buongiorno a tutti, siamo finalmente riusciti a venire a Pomposa, in questa straordinaria pista dell'Emilia-Romagna, così tecnica e particolare. La giornata è veramente calda, ci sono più di 30 gradi, lo scenario è favoloso. Il rapporto consigliato mi dicono qui essere il 17-25, anche se io una piccola variazione gliela faccio senz'altro, mi sembra sia un tracciato nel quale si deve assolutamente guidare con molta delicatezza, cercando di girare il volante il meno possibile e di accelerare in modo non brutale, fuori dalle curve, perché altrimenti si rischia di scomporre sempre e troppo il retrotreno del kart. Quindi, molto progressivi in uscita, accelerazione dolce, ma decisa. Stessa cosa per la frenata, in modo tale da non scomporlo. e niente, bisogna proprio concentrarsi moltissimo tutto il giro per cercare di sbagliare il meno possibile, perché non sbagliare niente in un giro qui per me è veramente molto difficile. E mi sembra. di capire che al mattino la pista sia spesso scivolosa e poi dopo, man mano che trascorrono i turni, si gommi un pochino. Purtroppo non è una giornata di gara, quindi presumibilmente non si gommerà al top e poi diciamo fa anche veramente molto molto caldo. quindi, insomma, vediamo di andare sempre il più veloce possibile e poi soprattutto di imparare, di imparare a guidare bene qui in modo da fare qualche tempo decente, insomma. Ciao a tutti quanti! Grazie! 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 Grazie!